Al di fuori di noi. Massimo si accesse la sigaretta e provò a fare un grosso anello di fumo, ma non ci riuscì e il fumo grigio si disperse disordinatamente. A quanti anni hai cominciato a fumare? A nove anni. Massimo a nove anni era più evoluto di me, come anche adesso. Lo era stato più di qualsiasi ragazzo della sua età. A nove anni aveva convinto sua madre a chiedere il divorzio. Aveva chiamato i carabinieri quando suo padre si era presentato ubriaco in casa e aveva cercato di picchiare la moglie. Sì, Massimo era sempre stato molto più evoluto di me. Fu lui ad udire per primo la macchina che stava arrivando lungo la strada sterrata, che conduceva alla loro casa in campagna. Poi la audì io. Stai accucciato, ordinò Massimo in tono sommesso. Nessuno dei due si mosse. Una macchina nera e impolverata apparve sulla collina e cominciò a scendere verso di noi. Le erbacce sulla strada arrivavano al paraurti anteriore. Massimo gettò a terra la sigaretta e la coprì con la scarpa schiacciandola ben bene. Io riconobbi l'onestà del suo gesto. L'auto rallentò avvicinandosi allo spiazzo davanti alla nostra casa colonica, poi ne fece il giro, sfiorando nel passare i rami degli alberi. Si fermò con il cofano puntato verso la strada. Massimo ed io eravamo proprio lì dietro, nascosti. Massimo strisciò tra l'erba verso una fila di cespugli all'estremità della radura. Io lo seguì. La parte posteriore della macchina distava da noi una decina di metri e vedemmo che aveva la targa di Caltanissetta. Che cosa sta facendo? Mormorai. L'auto rimasse ferma per circa un minuto, poi la portiera si aprì e il conducente uscì guardandosi intorno. Era un uomo grosso con le spalle da portuale, i jeans e una maglietta. Si guardò attorno ed entrò nella casa dove la madre di Massimo stava in cucina. Ci furono tre colpi di pistola e un grido della donna. Poi l'uomo rientrò nella macchina che si allontanò lentamente. Continua.